La sera della sera, mi parlano d'amore Lei se lo ricorda Bossi? Bossi, conoscente Bossi non mi interessa c'era nessun ricordo che nel mio paese mi è un battescano 3, 4 giorni fa era qui erano lì, erano lì aveva 4 donne assieme e 4 uomini è un bel attaccio Ma lei l'ha conosciuto quindi? Bossi, certo ma com'era da giovane? ma io credo che qui sopra non è stato tanto ben oddio si l'hanno votato però la gente proprio di qua proprio i conoscenti primi qualcuno ce l'aveva su perché era un po' un birbante quindi Bossi è uno come noi erano dalla stessa età tutte le ragazze del secondario qua gli facevi la festa tutte perciò eravamo tutti uguali però erano un po' malcapazze ma tutti noi qua c'era giù la ghiaia noi tiravamo la ghiaia sopra la tettoia e venivano fuori di correre indietro e poi il campanino quando chiudevo la porta della chiesa e chiudevo la porta il campanaro chiudevo l'appartone tra l'altra e tiravamo le campane e poi andavamo a Montonate lì in un paese che chiamava Montonate a ballare lui aveva il GS c'eravamo tutti la vespa qui in giro perché qui c'era la frutivendola qua sopra qua gli facevamo il filo tutti la pallantina incantava e se l'ha portata via lui e noi stavamo a studiare a guardare la vostra e mi ha detto che studiava a Pavia boh diceva che studiava poi io qua che cosa faceva poi non lo sapevo poi diceva che studiava dottore che ne so e Bossi abitava di qui a fianco a me io sono nato a maggio lui a settembre questo qua la pitturanza mio padre nel 41 e allora stava facendo la madonna e quello lì continuava a piangere il Bossi quando sono andato giù la lega lì che c'era il Bossi io avevo il quadro perché l'ho fatto benedito al prete perché c'era in giro il prete a Natale e allora ce l'ho fatta benedire e come lo vede il Bossi? l'ha visto sgangherato